Ma capisci? Il 4 novembre non è la tua festa! E' tronzo! Cretino! Il 4 novembre! E' un traccio allo Stato! Questo schermo è un traccio allo Stato! Oh no! E' un traccio allo Stato! Oh no! Questo schermo è un traccio allo Stato! Questo schermo è un traccio allo Stato! Cretino! quando hai visto cosa è successo se ho perso il comandante è seri andati dove c'è gente? dove c'è gente? dove c'è gente? dove c'è gente? oh 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 oh